Eh, prego, vai, vai. Non mi è passato bene. Ma stai qui, ma dove vai? Aspetta un attimo. Sì, arrivo, arrivo. Rosita, prego. Dimmi, dimmi. E tu come l'hai passato? Parla lì alla telecamera. Tu come l'hai passato? Bene, bene. Bene? Sì. Dove è giornata? A casa tua o a casa di... Tuo marito, magari dei suoi, cioè sei sposata, Rosita? No, no. Ah, ecco. Sono single. È single, scusa un attimo. Ah, Rosita, bene. Senti, esattamente di dove sei, Rosita? Della provincia di Cosenza. Della provincia di Cosenza, Rosita. È lontana. La conosci già, Rosita? No. No, mai sentita? Lei lo chiami ogni tanto a Mr. Chef? Sì, ogni tanto sì. Sì, però non è che la conosco di presente. Di persona, no. No, però... Eh, da te. Vabbè. Lei conosce te. Possiamo anche incontrarci. Ecco, hai visto? Possiamo anche incontrarci. Regia, io non vorrei mai non parlare di cucina, ma un attimo la canzone di Leo ce la puoi mandare, gentilmente. Creiamo un po' di atmosfera. Ecco, sì. Sei tu che amo di tutto. Oh, ma manda, manda, regia, grazie. Aspetta, adesso arriva, eh, Rosita? Adesso la dedichiamo proprio a Rosita, vero? Rosita, ci sei? Sì, sì, ci sono. Ci sei, Rosita. Bene, quindi questa serata di MasterChef con il nostro Leo la stai gradendo particolarmente. Pronto, Rosita? Pronto. Dico, questa serata, queste quattro ore con Leo. Sì, sì, sì. Assolutamente lunghi, sì. Bello. Bene, ma regia, ce l'abbiamo la canzone. Però, però, Simona, lo vedo un po' imbarazzata con le mani. Ma non lo so, ma Leo, scusa. No, no, non sono imbarazzata. No? E vieni qua allora, cosa... E spesso, lavorando. Ogni minuto a levandare, non lo sai, sono cinque volte che ti stai lavando le mani, sei pulitissimo, l'abbiamo capito. Siamo felici di... La sindrome del lavandino. Oh, brava! Ecco, Rosita, la sindrome del lavandino. Del lavandino. Ma chi è venuta in questi ultimi due minuti, però, questa sindrome? No! Intanto, Rosita, resta con noi perché mandiamo la canzone adesso, eh. Fate voi, fate tutti. Tu cosa stai facendo? Ti sto sbucciando la mele. Lui, tanto, non dobbiamo commentare nulla perché... Sì, prego. Sì, sì, sì. Volevo chiedere a Leo, cosa ha mangiato oggi? Cosa ha mangiato oggi? Eh. Cannelloni, ripieni. Ah. Dopo una bestecca... Canta, canta anche solo. Puoi cantare un po', no? Vabbè, ma canto io adesso. Vai, vai. E credi se c'è... Sei tu. Che amo di più. Ma dove vai? All'avanti. Eh, devo buttare i buoi. Vedi che dopo io non riesco a creare questo. Sei tu. Che sogno di più. Vi lascio sogni. Che amo di più. Vai, vai, vai. Leo, sei inquadrato, eh. Sì, lo vedo che sono inquadrato. Bene, bene. Eh, ti devo mettere il quintaio. No. Il quintaio ti deve mettere la signora Rosita. Ah, il cuore sembra una bandiglia. Senti, cara Rosita, guarda, mi ha fatto molto, molto piacere. Noi abbiamo il numero di Rosita, vero, regia? Sì, sì, sì. Senti, Rosita, beh, io direi che questo è stato da... Ci seguirai chiaramente fino a mezzanotte, vero, Rosita? Ma io mi seguo tutte le sere. Tutte le sere, però questa sera... Un po' particolare. Hai capito? Capito. Questa sera un po' particolare. Senti, Rosita, ma avremo il piacere di conoscerti. Ma che sa me niente? Leo? Eh, va al lavandino. Eh, dove va a lavorare al lavandino? Ha la sindrome del lavandino. Guarda, io non lo so come mai. Abbiamo quattro ore, dobbiamo andare lentamente. Sì, lentamente. Lento, questo lo dobbiamo fare soltanto. Io lo so il minuto che devo fare. Eh, sì. Ora, io mi seguo soprattutto la chiedata. Sì. E quando, quando è volto, andrà al lavandino. Ecco, ma secondo me, dopo questa telefonata, puoi vedere che per un po' non ci va più. Ma non lo so perché. Eh, devo andare a buttare il vino. Eh, sì, sì, è certo. Lui è molto pulito, quindi giustamente il nostro Leo fa tutto con scrupolo. Però, Rosita, guarda, mi ha fatto tanto piacere la tua telefonata. Magari prima di mezzanotte richiamaci se vorrai, va bene? Guarda, dalle 20 e 30 che faccio il numero, però non riesco a fare, non riuscivo a prendere. Ma vedi, sei fortunato, allora, dai. Se magari, ecco, hai voglia, magari verso le 23, insomma. Sempre se posso, mi seguirò fino a mezzanotte. Noi siamo qui, vero Leo? Sì, sì, siamo fino a mezzanotte. Adesso la sindrome del bancone, hai visto? Sindrome del bancone adesso. Ma, va bene, Rosita, va bene, insomma. Continua a seguirci, siamo in una serata interessante. Ciao, Rosita. Ciao, grazie, Rosita, ciao. Grazie, che ha la Rosita. Ciao, buona giornata per domani. Grazie, grazie mille e tanti auguri anche a te di nuovo. Ciao, Rosita, grazie, molto simpatica. Ciao, ciao. Dovrei spostare la frutta. Sì, spostiamo la frutta, sciacquiamo la nostra... Pronto? Sì, pronto, buonasera. Claudia. Eh, Simona. Claudia. Commentiamo. Sì, sì, io vi vorrei mettere in contatto con il signor Manica. Con il signor Manica. Eh, Manica. Sì. Eh, se mi vuole telefonare lui, ci puoi dare il numero, oppure mi dai il numero lui e mi telefono io. Va benissimo, cara Claudia. Questa informazione di servizio che io passo molto volentieri. Ci stai seguendo? Sì, 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 sto seguendo. Ma hai seguito prima un po' di Beautiful? Hai seguito? Sì, 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 un po' di più. Leo, 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 ti raccomando, Leo. Eh, lui, lui, va all'avandino, ma non lo so io, guarda, c'è qualcosa di strano, guarda. Claudia, comunque, sei... Sei un ragazzo, sei, sei un bel ragazzo. Chissà, Rosita verrà qui, si farà vedere anche lei, io poi ti informerò quando ci sarà Rosita qui da noi, Leo, perché magari passa così per caso, no? No, che dici tu? Che dici, sì, 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 ecco, come dici tu, va tutto bene. Allora, una coppia l'abbiamo formata con Armida e l'innominato, non posso... Poi un'altra coppia la stiamo... Che coppia? Sì, sì, coppia vincente. Vincente, ecco, di cucina, diciamo. Va bene, Claudia? Senti, Leo, ti voglio dire una cosa, perché tu non è che sei sul giornale di Poste al Mar, tu sei più bella, allora. Eh... Hai capito? Ma no, andai, Claudia, che mi dai, andai, andai. Non mi è vero a tagliare, signora. Noi ci stiamo un po' scherzando perché tanto non dobbiamo commentare nulla perché stiamo facendo la Macedonia, quindi, insomma, stiamo semplicemente tagliando la frutta. Prego, cara Claudia. Fa sentire una canzone che c'è una bella voce a lei, se la fa sentire una bella canzone. Magari qualcosa accenderà con una dedica speciale, chissà. Sì, sì. Ma vediamo. Ok, che c'è. Ciao, Claudia, grazie. Ciao, stala. La Macedonia di Natale, mezzo litro di vino prosecco. Spengo il telefono. Due kiwi, un'arancia, 340 grammi di ananas e due mele verdi. Quindi poi condiremo tutto con il prosecco, Leo. Sì, con il prosecco, sì. Pronto? 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 Ciao, signora. Ciao, con chi parlo? Eh? Pronto? Come sapete, è il nipote di Gioveo. Ah, è il mio nipote, è Giuseppe di Savarato. Ciao, amore. Come stai? Canto la canzone sei. E tu, che voglia di più? Amore, ma quanti anni ha Giuseppe? Sei anni. Sei anni, Giuseppe, come il mio bambino. Eh dai, cantala un pochino senza base. Cinque, cinque anni. Cinque anni, caro Giuseppe. E al nipotino un po'. E mandiamo la base, dai. Aguri, buona tawa. Mandiamo la base per Giuseppe e Rosita. Ecco. Eh? Sì? Eh? Tentato degli aguri. Eh? Sì, ho venuto. Per Rosita anche, saluta Rosita anche. Ciao Rosita. Io non ballo mai, io mai. Vai, 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 Leo, canta. Non la canzone, mozza. Mentre cucini. Giochi nella notte come un gatto ignorato, sul mio corpo caldo ancora dormi un po'. Su tuo seno sento dori di profu. Dai, Leo. Giora fuori le bule, con la sigaretta bruci i tuoi pensieri. Adesso mettiamo la dinastica. Pronto? Pronto. Buona settimana. Ciao, con chi parliamo? Sono Elvira, tanti auguri. Ma cara Elvira, ciao. Ma sai chi c'è qui da noi in studio che non si vuole far vedere? L'amico. Ciao, ciao.